ciao ragazzi ciao ragazze bentornati in un nuovo video oggi come potete vedere spacchettiamo ben due pacchi arrivati da Yves Rocher non ho fatto nessun ordine almeno finora sul catalogo 12 ma bensì ho ordinato le anteprime di natale ho ordinato il super set delle anteprime di natale quindi ora andremo a vedere tutto quello che contengono queste due scatole a fine video vi faccio vedere i set formati e finiti diciamo ecco quindi andrò a mettere nelle proprie scatole i prodotti ovviamente non ve li faccio vedere finiti come li andrei poi a consegnare le clienti perché quello arriverà in un secondo momento ecco però vi faccio vedere poi come saranno composte le composizioni ok quindi direi di partire subito eccoci qui allora questo è il catalogo da cui appunto ho ordinato io le anteprime di natale che andava era riservato a noi consulenti e andava dal 10 al 29 settembre allora partiamo troviamo due spugnette c'erano anche l'anno scorso l'anno scorso erano rettangolari avevano un decoro diverso queste invece sono quadrate ma sono uguali identiche come erano appunto l'anno scorso con un lato liscio e un lato appunto un pochino più rovido poi troviamo una pochette blu in stoffa fatta in questo modo poi abbiamo due pochettine una e due così fatte appunto con la retina trasparente davanti quindi si riesce a vedere quello che c'è all'interno poi abbiamo uno di questi cestini in latta bellissimo perché è tutto dorato con disegnati questi uccellini sul blu notte infatti il blu notte lo andremo poi a ritrovare anche nei pack dei prodotti devo dire che quest'anno con i prodotti i pack dei prodotti si sono superati perché secondo me sono molto più belli rispetto a quelli dell'anno scorso qua troviamo un altro cestino fatto in legno rotondo per fortuna è arrivato integro l'anno scorso mi era arrivato uno rotto a metà quindi avevo un po' di ansia poi quello ve lo faccio vedere dopo perché appunto in fondo allora quest'anno troveremo tre linee bensì sì tre linee l'anno scorso ne avevamo due allora abbiamo la linea questa qui che si chiama mele d'inverno quindi è quella nel pack appunto arancione devo dire che il pack guardate è bellissimo troviamo appunto i dettagli in blu notte questo pack questo colore questi colori mi riportano un pochino non so voi poi fatemi sapere magari nei commenti cosa ne pensate mi riporta un po' ad halloween non lo so io associo il colore arancione non lo so questi colori li associo un pochino ad halloween questo in particolare è il bagno doccia da 400 ml non ho sentito le profumazioni non li apro questi perché ovviamente saranno destinati alla vendita poi altra linea che andiamo a trovare quest'anno si chiama bacche fatate ed è incentrata su queste tonalità del viola borgogna color vino bellissimi sempre dettagli in blu questo qui anche questo è appunto un bagno doccia da 400 ml e anche questo pack questa etichetta la adoro veramente bellissima l'altra linea così almeno le abbiamo già viste un attimino tutte insieme è la terza appunto ed è la carité magique ed è qualcosa c'è ditemi voi bellissimo guardate questo allora questo qui è il latte corpo riparatore è un ecu tubo da 200 ml questa linea mi ispira come anche le altre due mi ispirano tantissimo ma questa in particolare non lo so cioè guardate secondo me quest'anno si fanno veramente anche l'anno scorso erano belli ma quest'anno si sono superati si fanno delle figure bellissime secondo me da regalare questi prodotti questo vedete che cambia i colori è sempre il carité la linea carité magique ma questo è il doccia schiuma da 200 ml allora vediamo cos'è balsamo doccia ultra nutriente carité magique questo è questo appunto il latte corpo riparatore wow e secondo me andrà molto anche perché ci sono delle mie clienti che amano la linea carité quindi troviamo un altro latte corpo sempre della linea carité magique riflette un pochino le scritte riflettono un pochino perdonatemi poi troviamo anche ovviamente i set con i prodotti che abbiamo in linea permanente quindi abbiamo questo bagno doccia al cocco da 400 ml poi abbiamo due latte corpo sempre al cocco da 200 ml poi troviamo altro bagno doccia da 400 ml questo qui della linea mele d'inverno sempre della linea mele d'inverno abbiamo due saponi liquidi mani da 190 ml oppo vi ho toccato dentro e troviamo anche due creme mani da 75 ml ma cioè volete guardate che bello che è questo tubetto ma è stupendo bellissimo bellissimi poi della linea bacche fatate devo un attimino ricordarmi un po' tutti i nomi qua troviamo saponi liquidi mani da 190 ml poi qua abbiamo un'altra crema mani mele d'inverno in questo sacchettino qui troviamo un balsamo labbra al karité poi questo è un altro contenitore da andare a preparare appunto con dentro i prodotti e guardate la meraviglia anche l'anno scorso c'era comunque questo qua è rettangolare così ma guardate questo blu notte con questo oro sta veramente da dio poi abbiamo un formato da 50 ml dello struccante nuovo lo struccante bifasico pur bleu un altro sapone liquido mani da 190 ml della linea bacche fatate poi troviamo i sacchettini questi qua medi con dentro le ricevute da fare alle clienti e il sacchettino di campioncini che mi ha dato l'azienda poi troviamo gli album 13 io ne ho ordinato qualcuno e qua all'interno troviamo un'altra novità poi qui in fondo abbiamo vabbè lì c'è la fattura e qua ci sono questi ulteriori album che non è proprio l'album effettivo di natale perché quest'anno il brochet ha suddiviso il natale in due questo avrà validità dal 30 settembre al 29 ottobre quindi il 30 settembre ricordatevelo uscirà il video sullo sfoglio di questo album quindi ci sono un po' di paginine da guardare e non vedo l'ora di sfogliarlo ce ne sono un bel po' perché questi mi uscivano insieme facevano parte del set che ho preso di natale del super set ora prendo l'altro pacchetto e torno da voi ok eccomi tornata con l'altra scatola piena di meraviglie allora subito così troviamo un bel pannettino arancione bellissimo, molto carino, questo colore è bello poi troviamo della linea mele d'inverno il gommage corpo questo qui è un gommage corpo nel formato da 30 ml poi troviamo un gommage corpo invece nel formato da 150 ml poi troviamo questa qua che è la candela candela da 70 grammi ed è fatta in questo modo questo vasettino qua opaco arancione carinissimo andiamo se non dura tantissimo questo video poi della linea bacche fatate se non ricordo male si chiama bacche fatate troviamo la crema mani da 75 ml stupendo wow e poi troviamo il bagno doccia questo qui da 200 ml poi della linea diciamo permanente troviamo appunto il bagno doccia da 200 ml al cocco crema mani idratante della linea pur arnica cremina mani da 30 ml al cocco olio mani esfoliante pur arnica poi troviamo questo qui c'è scritto in francese vediamo se c'è scritto in italiano comunque dovrebbe essere uno shampoo concentrato sì shampoo concentrato questo qui per tutti i tipi di capelli da 100 ml poi gel doccia concentrato all'oliva da 100 ml sapone liquido mani al cocco altra cremina mani al cocco un deodorante ecco questi qui sono della linea appunto cioè sono gli ultimi usciti della nuova linea dei deodoranti questo qui è quello 48 ore purezza con menta piperita bio poi troviamo il bagno doccia da 200 ml mele d'inverno della linea carité magique troviamo il gommage corpo body scrub da 150 ml e in questo vasetto che bellissimo che cos'è allora balsamo riparatore per il corpo sempre appunto della linea carité magique e sono 150 ml di prodotto wow poi sempre carité magique abbiamo il gommage corpo body scrub da 30 ml questa che cos'è non so che cosa sia questa ah questa è una sacchetta ok ho guardato adesso nell'immagine è una sacchetta che andrà poi a contenere i prodotti appunto ve la faccio vedere poi dopo con dentro i prodotti poi qui cosa troviamo ah ecco questi vabbè ve li faccio vedere dopo allora poi troviamo lo struccante bifasico purble da 100 ml è partito il tappo spray corpo e capelli questo qui al cocco poi troviamo questi qui che sono i profumini che fanno parte di un set che se non ricordo male vanno dentro questa pochettina blu e troviamo sono da 10 ml l'uno e devo dire che sono bellissime e troviamo il common evidence we all amour e il mon rouge io direi di aprire e vedere come sono poi dopo vi faccio vedere semplicemente il set senza rompere le scatoline maria allora ok questo è il mon rouge molto carino semplici ma molto carine e quindi le altre saranno uguali quindi non sto dai ad aprirle tutte saranno uguali cambieranno magari i colori del tappo poi qua troviamo una palettina occhi sarà sì una palette trio sui toni del grigio ma ovviamente io questa non la posso aprire quindi vi faccio vedere un'immagine dal cataloghino ecco qua è questa la palettina occhi sulle tonalità del grigio poi qui troviamo un'altra bustina molto carina per andare a metterci dentro appunto i prodotti ne troviamo qua un'altra fatta in cartone poi oddio qua è tutto da montare questa è un'altra scatoletta altra scatoletta wow che colore un bel fucsia bellissima che belli e altra pochette in cartone qui troviamo altri album cataloghi natale uno e due cataloghi vecchi cioè vecchi sono ancora in corso adesso fino al 29 settembre poi ah qua ci sono i laccettini delle pochette che abbiamo cioè delle scatolette che abbiamo visto prima qua troviamo una una base SOS e qua c'è un sacchetto pieno di robe lo apro lo svuoto e torno se no faccio un casino assurdo eccomi ritornata allora troviamo una matita labbra una stilolabbra questa qui è nella colorazione 31 rouge quindi ottima per il natale ovviamente poi troviamo due creme mani da 30 ml della linea mele d'inverno poi della linea karité magic troviamo latte corpo riparatore da 30 ml balsamo doccia oltranutriente da 30 ml ne abbiamo qua due e abbiamo un altro latte corpo da 30 ml e un altro bagno doccia poi della linea bacche fatate troviamo crema mani da 30 ml e il gommage corpo altra crema per le mani poi troviamo questo qui è il bagno doccia da 50 ml e sempre bagno doccia da 50 ml mele d'inverno poi questa queste qui sono le lime fanno parte di un set per le mani le unghie poi abbiamo balsamo qua balsamo labbra noci di cocco e poi i balsamo labbra appunto della linea mele d'inverno e bacche fatate quelli qua poi abbiamo un mascara vertige volume rossetto della linea matte ed è il numero 156 sarà sicuramente un rosso da come si può vedere già da sotto vediamo qua cosa c'è scritto no non c'è il nome o che il colore comunque 156 matte altro balsamo labbra mele d'inverno poi ci sono questi tre prodottini qua per le labbra io sono molto curiosa di questi prodottini perché sarà il pack non lo so le colorazioni ma devo dire che mi piacciono molto sono queste tre colorazioni allora la più chiara è la numero 11 vi faccio leggere il nome perché non voglio fare gaff poi abbiamo questa qua che è quella rossa che è la numero 12 e poi questa che è la numero 13 che è un pochino più più scura sempre sulle tonalità del rosso borgogna molto belle poi io ho preso i tag questi qua che adesso non voglio aprire il pacchettino ma sono appunto questi tag qui che hanno il logo Yves Rocher da attaccare ai pacchetti che andrò a comporre poi per le clienti quindi questi sono tutti i prodottini che fanno parte del super set di Natale che ho preso ora cercherò di ricomporre un pochino i vari set e ve li mostro allora ragazzi ragazze sono tornata vi mostro diciamo i set che ho composto guardando appunto il mio opuscolo delle anteprime ci sono parecchie cose che mi sono arrivate singole come per esempio adesso vi mostro scusate sono per terra quindi abbiate pazienza allora vedete tutti questi prodottini qui mi sono arrivati cioè singolarmente quindi poi io posso venderli cioè singolarmente se mi chiedono giusto anche così adesso ho una crema a mani di questa collezione quindi qui abbiamo un po' di tutto sia se metto a fuoco ok sia della collezione mele d'inverno bacche fatate che della collezione carité magique quindi abbiamo questo lato qua che è tutto il singolo che è arrivato i matitoni questi qui vengono anche questi venduti singolarmente poi ovviamente se il cliente o la cliente vuole fare comporre proprio un set comprarli tutti e tre comprarli singolarmente possono fare quello che vogliono questo è un set quello lì è un set mani questo che appunto è composto dall'olio mani esfoliante dalla dalla crema mani dalla base rinforzante e dalle limette quindi questo diciamo è questo qui è un altro set questi quattro prodottini qua che andrò magari a mettere in uno dei sacchettini che ho io logati i brochets eccetera poi vedrò come comporli ora vi mostro invece quelli che ho composto allora questo è il set vi dico anche proprio come si chiamano duo carité che appunto è composto da questa pochettina in cartone balsamo labbra e il latte corpo da 30 ml della linea carité magique il latte corpo invece il burro di balsamo labbra è della linea permanente questa qui è la pochettina che contiene i tre profumini ok quindi questa è la pochette con i tre profumini come vi avevo già accennato poi abbiamo questo set qua che si chiama cestino mele d'inverno dove appunto abbiamo i prodottini della linea quindi il balsamo bagno doccia da 400 ml tutti i vari prodottini la candela e poi c'è il latte scusate il balsamo doccia ultranutriente e questo qui è il appunto balsamo riparatore per il corpo della linea carité magique quindi abbiamo un po' un mix tra carité magique e mele d'inverno e c'è anche la spugnettina e il cestino in legno singolarmente troveremo anche la palettina grigia che vi ho fatto vedere prima quindi viene venduta singolarmente a meno che un cliente vuole accostare o metterle insieme a qualche altro set per esempio abbiamo due set per ora make up che sono formate da queste due pochettine dove in una c'è il mascara vertige volume vertige e lo struccante bifasico da 100 ml quindi così e invece in questo c'è la matita labbra il rossetto e lo struccante da 50 ml uno struccante bifasico da 50 ml ecco qua quindi poi se qualcuno vuole aggiungere che ne so la palettina questa qui vuole mettere insieme a questo si può anche fare ecco ovviamente altro set questo qui molto molto carino a mio parere in questa pochettina trasparente in plastica bianca viene chiamato set gym e travel appunto c'è all'interno lo shampoo concentrato il gel doccia all'oliva concentrato il deodorante e la salviettina che vi ho fatto vedere prima arancione devo dire che anche questo è un set molto molto carino poi troviamo questo set in questa pochettina che ho costruito in cartone con il suo manico devo dire che questo è bellissimo ma secondo me è anche un ottimo regalo anche non per Natale perché se effettivamente voi vedete non sono proprio prettamente confezioni natalizie quindi secondo me si possono regalare benissimo in qualsiasi momento dell'anno anche per un regalo di comprensione un pensierino e questo in particolare è la confezione bacche fatate dove dentro appunto abbiamo il gommage corpo da 30 ml il bagno doccia da 200 ml e il sapone liquidomani da 190 ml poi abbiamo il set noce di cocco formato da questa pochette in cartone poi all'interno c'è appunto la crema mani da 30 ml il sapone liquido mani il bagno doccia da 200 ml e il latte corpo da 200 ml poi troviamo in questo cestino qua adesso non lo alzo perché se no mi cade tutto però ovviamente io non li presenterò così all'interno ci vado a mettere quella paglietta trasparente quella apposta per fare i cesti oppure anche bellissima secondo me quella paglietta fatta proprio tipo a quella tipo in legno quella pagliettina color legno adesso non so bene come si chiami comunque poi e poi si fa un bel cesto con la carta trasparente un bel fiocco comunque questo è il cestino mele d'inverno dove all'interno abbiamo la crema mani da 75 ml il latte corpo al karité quindi abbiamo un po' di mix tra prodotti mele d'inverno e invece due formati latte corpo e il bagno doccia ultra nutriente da 30 ml della linea karité magique c'è anche il bagno doccia da 50 ml quindi questo è un altro set altro set bellissimo in quest'altra pochette in cartone sempre con anche il loro manico da poterle trasportare è questa confezione karité e mela d'inverno quindi all'interno abbiamo il balsamo doccia ultra nutriente da 30 ml della linea karité magique e abbiamo anche il latte corpo nutriente intenso da 200 ml e poi della mela d'inverno abbiamo la crema mani da 75 ml anche questo molto molto bello poi qui abbiamo questo che si chiama scrigno bacche fatate io adesso l'ho chiuso ma comunque potete vedere bene all'interno che cosa c'è c'è anche il sapone liquido per le mani c'è un po' di un misto tra appunto la linea karité magique che c'è il gommage corpo da 30 ml e il latte corpo nutriente intenso da 200 ml poi il resto invece quindi il bagno doccia da 400 ml la crema mani e il sapone liquido mani sono della linea bacche fatate e questo qui è molto molto bello anche questo poi lo andrò a comporre in modo particolare infine abbiamo lo zainetto noce di cocco allora io adesso l'ho aperto e perché ci ho messo dentro i prodotti quindi i prodotti c'è all'interno il bagno doccia al cocco da 400 ml lo spray corpo e capelli la crema mani da 30 ml e poi c'è anche il balsamo labbra e il latte corpo da 200 ml io ora per comodità ho messo tutto così qui dentro ma non presenterò ovviamente una cosa del genere ma la sacchetta l'andrò a chiudere ed a arrotolare in modo molto carino però vedete che è bellissima questa sacchetta qua molto bella e farò una confezione in qualche sacchetto bustina di quelle anche magari trasparenti nostre di Yves Rocher con i loghi che vi avevo fatto vedere nella mia diciamo nel mio beauty office al massimo ve lo linko qui sopra così se volete prendere qualche spunto anche da lì guardatelo che a molte persone è servito mi hanno ringraziato per quel video e ne sono felicissima se posso dare qualche spunto sono ben contenta di farlo nulla ragazzi io spero che il video veramente non sia venuto lunghissimo però ci tenevo a farvi vedere anche un attimino un po' le composizioni come erano e nulla noi ci vedremo poi prossimamente con lo sfoglio di questo album qui catalogo di Natale numero 1 il 30 settembre ci sarà questo video quindi mi raccomando vi voglio sintonizzate dai scherzo vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao